Ciao a tutti ragazzi e ben arrivati sul mio video, nuovo video su Granny e niente, aspetta, 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 play si sente sottofondo ok e niente, continuiamo, continuiamo sta caricando sta caricando in mano primo giorno ok e vabbè mi sa che la dovete vivere in questa casa allora che è così si vado sotto al... ah si può andare sotto a lei no e lo butto qui ok perché l'ho fatto? l'ho buttata pure qui avete... no no non c'è nessuno sotto al letto ok vai a fare i tuoi bisogni non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno oddio oddio a scocchio no odio quant'è brutta non so che si è rotta la scatola se mi metti la trappola non so cosa vuoi what the fuck what really eh no hai detto la porta di infame eh no so faccio sempre così mi ha detto da cofini che non se ne fa dai ma scusa mi boste nasca la gente non so faccio sempre Oddio, sono venuto un colpo al cuore. Perchè non entra? Non! Ah, la nostra l'acqua è... Ti ho, parliamo. 2-3 minuti che stanno inizia poi isa va a vedere un video se mi perplica a 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 dai pareggiate pareggiate almeno siamo ancora due a uno perché non c'ero se ero ancora vivo fate uccidere tutti e va dai ok finita se la pubblicità mi raccola che in questo video non è uscita una pubblicità è uscita cioè non è uscita pubblicità quando faccio i video cioè però solo adesso è uscita un miracolo negli altri video esce sempre la pubblicità cosa mi fa il nervo in più sono morti così siamo a posto e no tu tu infame perché sono uscito perché sono uscito comunque questo stickman non è come tutti gli altri stickman di solito gli stickman che vedete sugli altri video non sono così questo è un altro tipo ecco e vabbè avevo la stessa mamma 22 perché non ho beccato no cosa lo odio no non è questo no maledetti blocchi no sto vincendo il rosso beh come al solito qui tutto verde è la mia zona e sto qua attento ok sono dietro all'albero ma voi non cosa sapete dai dai qui è morto io lo sono uscito fuori qui eh 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 devi non vedrò che dai che manca poco alla fine questi i bianchi tipo i numeri vicino al blu sono i numeri che è il tempo 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 21 22 22 uscire dal gioco puoi entrare cavolo è sto gioco credo che dobbiamo giocare un altro gioco ancora perchè questa è crescita no 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 mi si chiama mai si crea ci questo giuro che è un blocco il video finisce qua almeno io hai fatto un calcio ecco alo 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 non si può scogliere vediamo infinito giochi allora è vero prima di tutto il legno aspetta e no non vado a prendere niente però e c'è un villaggio e ci sono dei villaggi quanta pieta ho usato per fare quella cosa cioè quella cosa lì è tutta pietra hanno usato un botto di pietra per fare quella fuori piano è fatta bene carina scusate un po' di tosse bella credata è tutta vuota bella ah l'acqua è scura da quando in qua l'acqua è scura cioè io l'ho vista sempre blu perché l'acqua è scura perché l'acqua è scura è questo oddio ah una maledizione di aero ma che cagli oddio no 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 è scura è scura non voglio pensare l'acqua deve è sempre così l'acqua di quel colore lì quello questo colore l'acqua è sempre di questo che roba eh ma perché è scura è sempre di quel colore questo colore è sempre di questo colore dove sono adesso azzurro è così blu perché è scura è viola viola neva oddio scrivete nei commenti perché o è un bug o è una maledizione di aerobe è tutto scuro ma non esiste un'acqua così scrivete nei commenti che cos'è io non lo so colpa vasta forse non ho scelto mi stavo incazzando ho detto mi sei cacciato il gioco no eh 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 perché vanno i miei perché vanno i miei ma voglio sapere perché no what the fu mi hanno creato la miei va il forse da qui lo sapevo lo sapevo lo sapevo io mi sono domandato sempre ma dove prendo ste robe dalla miniera infatti eh volevate eh 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 nascondere il segreto eh volevi eh no io sono furbo e mi si blocca tutto il posto perché non mi attacca oddio sono immortale cioè sono sopravvivenza ma non mi ha attaccato il zombie cioè l'avete visto tutti c'è lo zombie qua ero qui lo zombie mi è salito e poi è morto cioè è bruciato perché ovvio c'è le sue ma perché non mi ha attaccato io voglio sapere qua il peccano è morto il peccano oddio vi immaginate che ero ben fatti diventare i zombie buoni in posto ero ben non fanno mai diventare i suoi schiavi buoni vabbè non so se sono schiavi però vedete faccio percorre e niente vediamo se c'è oddio cosa ha danno se c'è qualche arma qualcosa un qualcosa qui dentro cosa c'è oddio niente terra proprio felice questo mondo proprio ma proprio felice questo mondo terra acqua neva sabbia a caso perché c'è la sabbia la non lo so non lo voglio sapere ma nella vita e qui c'è un rucci ovvio quale penso si ma che intelligenza come cacchio fanno io non me la freddo le spacco le ferie ma come cavolo fanno a dentare se se qui c'è un burrone eh aspetta ma non mi interessa non mi interessa non mi interessa ma scegliere ma non mi interessa ma non mi interessa e così non entrano più ma così entrano da qua e così sono un genio due blocchi poi faccio uno, due e così non possono oppure fanno qualcosa spaccheranno tutta la casa fanno tutta la casa magari io non so e niente ma salta salta vediamo cosa c'è qua terra ma è tristissimo questo mondo ma che cavolo è? è solo terra ma va a far bagno ma questo è un mondo di terra io lo chiamo tra un po' io ne cambio il nome metto mondo di terra o mondo triste meglio mondo triste mondo di terra o triste ecco che cavolo è questa roba? acqua nera viola diciamo il mio personaggio che si oh che si è spagato il mio personaggio che si baga sempre e non salta neanche che intelligente non metto il blocco vabbè comunque ragazzi io chiudo il video qua aspettate primo controllo meglio che chiudo il video ora ah questo ok se mi aspetta vediamo cosa c'è la craft in tea bagno niente e per questo video è tutto lasciate 10 like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e niente comunque io saluto quelle due persone vittorio e la mendor e se vi persichino le loro due un beso fino a più di amico e niente alla prossima ciao